Grande grande effetto! Una scatolina di legno con all'interno un dato ricoperta da una lastrina di plexiglass tutta quanta avvitata facciamo guardare, controllare la scatola, facciamo anche mischiare al nostro spettatore che mischia 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 il dato che in questo momento è 4 rimarrà sempre esclusivamente 4 beh, che tu ci creda o no, se puoi fare un numero migliore rispetto a 4 basta un attimo e otteniamo il numero 6 lo spettatore può controllare la scatola e provare nuovamente e non riuscirà a fare altro che verificare che il dato all'interno è realmente 6 e non cambia più rimane sempre esclusivamente 6 il dato nella scatola ti ricordo che Mille Accendini ha un secondo canale che si chiama Mille Passi quindi clicca qui per vedere questo tutorial caricato in esclusiva su Mille Passi Mille Passi è il canale di scorta di Mille Accendini che è il miglior canale di Youtube non dimenticare di iscriverti a Mille Passi Mille Passi